giorgio pettenella è stato uno dei personaggi che ci hanno veramente fatto emozionare che ci hanno fatto anche insomma inervosire molte volte ma pettenella insomma era bello per questo per le sue sfumature per il carattere particolare e per la sua ambizione ambizioni che lo ha portato ad avere anche dei grossi problemi con altri colleghi ed è il caso di quello che è successo proprio tra pettenella e pietro guerra in un episodio della terza serie pietro sta parlando con il padre di una ragazzina che era stata trovata in auto su un'auto in compagnia di un uomo adulto e ovviamente trattandosi di una minorenne oltretutto aveva meno di 14 anni questa ragazza ovviamente pietro è dovuto contattare i genitori ed informare di quello che era successo però loro per procedere contro quest'uomo dovevano assolutamente avere la denuncia da parte dei genitori e quindi pietro poi ha convocato dato appuntamento il giorno successivo al padre della ragazza per sapere appunto qual era la sua decisione e il padre della ragazzina si presenta nell'ufficio di pietro al quale comunica di non essere intenzionato a denunciare la questione perché se sua figlia l'ha detto che lei non è mai salita su quell'auto lui le crede e pietro cerca comunque di insistere di convincere questo genitore a cambiare idea a denunciare tutto quanto oltretutto insomma dice guarda che c'è veramente il serio rischio che un cinquantenne ha messo le mani addosso a sua figlia lei che cosa fa non fa nulla guardi che sono padre anch'io e se capitasse a me una cosa del genere farei di tutto per proteggere mia figlia fatto sta che a questo punto il padre di questa ragazzina salta salta su dicendo a pietro ecco visto che padre anche lei farebbe bene a pensare a sua figlia visto le le voci che girano non è che se ne parli un gran bene e lì pietro non ci ha visto più pietro alla fine ha aggredito quest'uomo l'ha preso per la camicia strattonandolo e gli ha urlato addosso di nominare più sua figlia e quest'uomo invece insomma ha cominciato a scagliarsi contro il pietro dicendo dicendo di che nella sua famiglia c'è del marcio e che lui va a cercare il marcio delle altre famiglie quindi insomma è stato un litigio molto pesante e le urla di questo litigio si sono sentite insomma anche nel resto del commissariato cosa che ha sentito anche verti muller cioè pettenello vero interpretato da verti muller fatto sta che il giorno dopo di questa aggressione su un articolo di giornale appare su un giornale appare proprio l'articolo su quanto accaduto pietro viene convocato nell'ufficio di cafasso dove è presente anche pettenella e cafasso dice guarda che il questore vuole prendere assolutamente dei provvedimenti contro di te e si parla anche di di un trasferimento e pettenella insomma dice comunque guerra non preoccuparti perché noi cercheremo una difesa comune di difenderti ma cafasso interviene dicendo guarda che qui non si tratta di difesa qui si tratta di accertare la verità e se pietro dovesse essere trasferito io su questa sedia non ci rimango a lungo quindi insomma ci saranno ci potrebbero essere delle serie conseguenze anche per cafasso in quanto lui è comunque responsabile di tutto quello che accade all'interno del commissariato sant'andrea fatto sta che pietro poi coinvolge donatella le fa fare una ricerca per capire chi ha dato la soffiata questo giornale perché pietro dice ma è possibile che solo un giornale pubblica la notizia questa notizia e e alla fine scopre la verità ne parla con cafasso e gli comunica appunto insomma quanto scoperto e così cafasso convoca immediatamente pettenella pettenella che quando arriva nell'ufficio di cafasso è sorpreso nel vedere anche guerra e fatto sta che cafasso insomma va subito al sodo dicendo lo sa chi l'ha scritto l'articolo riguardante l'aggressione che ha coinvolto pietro guerra fa sì sì lo conosco è comunque una mezza tacca e da quando in qua lei intrattiene dei rapporti quotidiani con una mezza tacca e inizialmente insomma pettenella fa finta di cascare dalle nuvole e a certo punto però cafasso mostra a pettenella i tabulati telefonici dove si vede che il giorno prima dell'aggressione che anzi no che il giorno stesso dell'aggressione subito dopo pettenella ha scambiato diverse telefonate proprio con quel giornalista pettenella ha cercato di difendersi dicendo è ma molto probabilmente mi ha cercato per un'intervista sui giardini ne ho fatte tante quindi insomma potrà può darsi che ci siamo sentiti per quel motivo ma cafasso insomma non è che si lascia prendere in giro così facilmente e dice chiaramente a pettenella che è stato lui a dare a passare le informazioni di quanto accaduto a questo giornalista perché l'articolo che è uscito era troppo dettagliato e solo chi era presente che il sito pavali poteva sapere certe cose e questo punto pettenella alzò un gordo dicendo comunque se voi avete dei dubbi parlate con il questore e poi vedremo e cafasso ovviamente insomma le ha risposto è la cosa che farò poi alla fine arriva la decisione di cafasso cafasso parla con pettenella dicendogli che vuole la domanda alla sua domanda in cui praticamente lui lascia il sat andrea cosa che alla fine accetta pettenella pettenella che poi viene coinvolto dallo stesso cafasso in una in un'indagine molto importante quindi ha chiesto in questo caso l'aiuto di cafasso c'è di pettenella e poi arriviamo alla fine all'uscita di scena di questo personaggio giorgio pettenella pettenella che esce dall'ufficio di cafasso insieme a guerra ci sono questi tre personaggi insieme e pettenella dice allora è arrivato il momento del congedo pettenella si saluta con cafasso e poi si rivolge a pietro dicendogli addio pietro e gli tende la mano dice almeno la mano possiamo stringersela e alla fine pietro stringe la mano a pettenella dicendogli abbiamo concluso un'indagine insieme ma non siamo diventati amici e poi c'è questa bella scena di pettenella che cammina verso l'uscita con dietro i vari personaggi insomma che continuano a lavorare e poi si sente la voce fuori campo di pettenella che dice sentirete la mia mancanza perché c'è sempre bisogno di un nemico e da lì avevamo capito da questa frase che quello non sarebbe stato un addio ma soltanto una rivederci infatti poi nel corso della quarta serie rientra giorgio pettenella e direi fortunatamente perché insomma un grandissimo personaggio che ci stava benissimo nella squadra per visto tutte le varie vicende che poi ci sono state ti invito a scrivere nei commenti che cosa ne pensi di questa uscita di scena momentanea di pettenella e in generale che cosa ne pensi di questo personaggio ti raccomando iscriviti al canale youtube e devo essere la vera squadra perché solo così rimarrai aggiornatissimo sui prossimi video che usciranno sulla squadra un post al sole ma anche tanti altri argomenti inoltre puoi anche abbonarti al canale una volta abbonato troverai tanti video esclusivi riservati soli abbonati e tra i video che troverai ce ne sono veramente tanti riguardanti la squadra e in questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo video ciao